Intrighi di corte, nobili assetati di potere, palazzi reali... riuscirete a conquistare il cuore della principessa consegnandole le vostre lettere d'amore? Benvenuti nel tutorial di Love Letter! Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare consigli e tutorial sui giochi da tavolo, in particolare giochi per qualsiasi occasione, con regole facili da imparare, in modo che siate subito pronti a giocare. In questo video vi parlo di Love Letter, un gioco di Seiji Kanai, da 2 a 4 giocatori, da 8 anni in su, della durata indicativa di 15 minuti, pubblicato in Italia da YouPlay.it Edizioni. Love Letter è un gioco di deduzione tascabile, formato da un mazzo di sole 16 carte. I giocatori sono i pretendenti alla mano della principessa Annette e devono cercare di farle recapitare le proprie lettere d'amore, in modo da conquistare il suo cuore. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i consigli per giocarlo al meglio. Mettete da parte i cubetti, mischiate il mazzo di 16 carte e posizionatelo a faccia in giù. Se state giocando una partita a 3 o 4 giocatori, ad ogni round rimuovete la prima carta dal mazzo senza guardarla. Se invece siete in due giocatori, ad ogni round rimuovete le prime 4 carte dal mazzo senza guardarle. Ogni giocatore pesca una carta dal mazzo e la tiene in mano senza farla vedere ai propri avversari. Il giocatore che inizia il round pesca una seconda carta, sempre senza farla vedere agli avversari, e la aggiunge alla propria mano. Tra le due carte a disposizione ne sceglie una da giocare scoperta sul tavolo e ne applica il suo potere. Una volta fatto, il turno passa al giocatore successivo. Ora vediamo i personaggi presenti nelle carte e le loro caratteristiche. Nel mazzo sono disponibili otto personaggi. La guardia, il prete, il barone, l'ancella, il principe, il re, la contessa e la principessa. In ogni carta trovate il nome del personaggio, il suo valore di forza che può essere da 1 a 8 ed il potere. Ora andiamo a scoprire quali sono i poteri dei personaggi. La guardia è l'unico personaggio presente con cinque carte nel mazzo. La guardia permette di puntare uno degli avversari e provare a indovinare la carta che è in mano, con l'eccezione della guardia stessa, che non può essere nominata. Se la carta viene indovinata, l'avversario la scarta scoperta sul tavolo ed esce fuori dal round. Il prete, il barone, l'ancella e il principe. Ognuno di questi personaggi è presente con due carte nel mazzo. Il prete permette di guardare segretamente la carta di un avversario. Il barone fa un confronto di forza tra la propria carta in mano e quella di un avversario. I due giocatori si scambiano segretamente le proprie carte e controllano quale delle due più forte, per poi riprendere le rispettive carte. Quella più debole tra le due viene scartata a facce in su sul tavolo e il giocatore esce fuori dal round. L'ancella fornisce al proprio giocatore un'immunità a un qualsiasi potere fino all'inizio del suo prossimo turno. Gli avversari non possono applicare i poteri delle proprie carte contro un giocatore che ha l'ancella attiva. Il principe permette di fare scartare ad un qualsiasi giocatore la carta che ha in mano e di ripescarne immediatamente una dal mazzo. Se le carte nel mazzo sono terminate, il giocatore pesca una delle carte che sono state messe da parte ad inizio round. Il re, la contessa e la principessa. Sono i tre personaggi col valore di forza maggiore e che sono presenti con un'unica carta nel mazzo. Il re permette di scambiare segretamente la propria carta in mano con quella di un avversario. La contessa deve essere obbligatoriamente giocata se è presente in mano insieme al principe o al re. La principessa quando viene giocata fa immediatamente uscire dal round il proprio giocatore. Vediamo ora le condizioni di fine round e di fine partita. Se tutti i giocatori sono usciti dal round tranne uno, quel giocatore lo vince automaticamente. Se il mazzo termina, tutti i giocatori rimasti scoprono la propria carta. Vince il round il giocatore che ha il valore di forza più alto. In caso di parità si sommano i valori di forza dei personaggi giocati. Vince il giocatore col numero più alto. Il giocatore che ha vinto guadagna un cubetto. Si rimischia il mazzo con tutte le carte e si comincia un nuovo round in cui è proprio lui ad iniziare. La partita termina quando un giocatore ottiene 4, 5 o 7 cubetti a seconda del numero di persone in gioco. Love Letter è una vera perla ludica, curata nel materiale e nelle meccaniche di gioco. Lo si nota dall'elegante sacchetto rosso, dal piccolo regolamento pieno di simpatici aneddoti sulla storia del gioco, fino ai bellissimi disegni presenti sulle carte. Le partite scorrono fluide, con una dose ben bilanciata di strategia, blef e fortuna, e il gioco presenta un'altissima rigiocabilità. Tutto ciò sorprende abbastanza, considerando che stiamo parlando di un titolo che ha soltanto 16 carte. Secondo il mio parere, il personaggio più forte del gioco è il re, perché ha un alto valore di forza, un potere che può essere utile in ogni occasione, ed è presente un'unica carta nel mazzo. Se però siete al termine del round e tutti i giocatori devono scoprire le proprie carte, sperate di avere una contessa o ancora meglio una principessa. Se vi è piaciuto questo video, potete mettere un like, lasciare un commento, condividerlo su facebook e gli altri social, iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui miei prossimi video. Se avete domande o consigli da darmi, scrivete un commento qui in basso e sarò felicissimo di rispondervi. Fatemi sapere anche se avete già provato questo gioco o se vi piacerebbe giocarlo con i vostri amici. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!